Reinhold Hanning, ex guardia dell'SS del campo di sterminio di Auschwitz, si è scusato per l'orrore cui ha contribuito più di 70 anni fa. Provo vergogna per non aver fatto nulla per impedire quell'ingiustizia, ha dichiarato Hanning, 94 anni, sotto processo dall'11 febbraio a Detmold, per complicità nella morte di almeno 170.000 persone nel corso di un anno e mezzo, fra il 43 e il 44. Non sono arrabbiato, ha dichiarato Leon Schwarzbaum, sopravvissuto di Auschwitz. Non voglio che vada in prigione, ma dovrebbe rivelarci più cose, in modo che la generazione di oggi, quella che sta crescendo, apprenda la verità su quanto accadde ad Auschwitz. Nel testo letto dagli avvocati per la prima volta Hanning evoca il proprio passato ad Auschwitz, di cui non aveva parlato neppure ai familiari. Non sapeva cosa fosse quando lo assegnarono al lager, ha raccontato Hanning, che arrivò in Polonia a 20 anni, dopo due anni al fronte.